Florens Multimedia A Firenze per i lavori alla linea 3 della tramvia è stato allargato il cantiere su Viale Strozzi da Via Ridolfi a Viale Lavagnini. Infine per i treni l'Euronotte 295 da Monaco di Baviera a Roma Termini al momento viaggia con 287 minuti di ritardo. Ferma a Firenze e Santa Veranovella alle 11.06 salvo recupero. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!